Sei la gioia e sei l'amore, mi hai rapito in questo cuore, notte e giorno io penso a te. Mi hai rapito in questo cuore, notte e giorno io penso a te. Grazie. Tutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Offriamo col silenzio del cuore, nel silenzio del nostro cuore le nostre intenzioni e coloro che ci ascoltano da casa e coloro che ci sono affidati alla nostra preghiera. Reggina del Cielo, rallegrati, alleluia. Cristo, mi hai portato nel tempo, alleluia. E' risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Custodisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Poiché il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo, o Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio, hai ridato la gioia al mondo intero. Per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Vieni, Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Vieni, Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Vieni, Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Vieni, Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Vieni, Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Vieni, Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli dei secoli. Vieni, Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, 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 ora Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose per la tua misericordia. Madre di luce dei bambini mai nati, prega per noi, lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù nel cezzemano. O Gesù, ti affidiamo tutte le nostre angosce e l'agonia di un morifondo. Ti preghiamo, Gesù, salva le anime innocenti, ferma la mano di Erode. Il nostro cuore è tuo, Gesù. Padre nostro, che sei in Cilio, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e venite a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci dura in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ave Maria, amè. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, per la tua misericordia. Maria, Madre di Luce dei bambini mai nati, prega per noi, lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Nel secondo mistero doloroso condividiamo la flagellazione di Gesù alla colonna. O Gesù, noi vogliamo consolare il tuo cuore, carico di tutti i peccati impuri che sporcano la tua croce. Infondi nel nostro cuore lo spirito di purezza virginiale, come la tua Santa Madre e San Giuseppe, tuo Paolo imputativo. Il nostro cuore è tuo, Gesù. Padre nostro, che se ne uccidi, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre terza azione, ma non ci lasciare male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di luce dei bambini mai nati, prega per noi, l'ho dato sempre sia, di Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Nel terzo mistero doloroso contempliamo, Gesù è coronato di spine e condannato a morte. O Gesù, re della gloria sei tu, con la corona di spine. Liberaci, Signore, da tormenti, ossessioni, da pensieri malsani e peccaminosi. Perdonaci ogni volta che pensiamo male e male diciamo. Il nostro cuore è tuo, Gesù. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri nevitori. E non cintura in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, nei secoli, nei secoli, Amen. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Gesù, Gesù, perdona le nostre colpe, presentaci dal fuoco nell'inferno, popolo del cielo e tutte le anime, specialmente le più disognose della tua misericordia. Maria, Madre di Luce dei bambini mai nati, prega per noi, lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Nel quarto mistero doloroso contempliamo la salita di Gesù a Calvario sotto il pesante legno della croce. O Gesù, aiutaci a portare la nostra croce per amarla come l'hai amata tu. Insegnaci ad offrirla a te, in cambio della redenzione, della pace nel cuore e nella famiglia. Il nostro cuore è tuo, Gesù. Padre nostro che sei nei Cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in benedizione, ma non ci darci la morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Gesù, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Fuori che c'erano tutte le anime, specialmente le luci sognose della tua misericordia. Madre di luce dei bambini mai nati, prega per noi, lo dato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, 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 Gesù e Maria. Nel quinto mistero doloroso contempliamo la crocifissione e morte di Gesù dopo tre ore di agonia. O Gesù, con il tuo sangue purifica tutte le miserie umane, con le tue piaghe guariscici dall'incredulità. Con la tua croce salva tutte le anime abbandonate in cielo e nella terra. Il nostro cuore è tuo, Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, perché rimette a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dalla madre. Avevo Maria, piena di grazia, signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Avevo Maria, piena di grazia, signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Avevo Maria, piena di grazia, signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Avevo Maria, piena di grazia, signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Avevo Maria, piena di grazia, signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Avevo Maria, piena di grazia, signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Avevo Maria, piena di grazia, signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Avevo Maria, piena di grazia, signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Avevo Maria, piena di grazia, signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Avevo Maria, piena di grazia, signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ove sempre, nei secoli, nei secoli. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di Dio, madre di Dio, prega per noi, lo dato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Salve, regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. Salve, salve, regina. Salve, regina. Salve, regina. Salve, regina. Salve, salve. Salve. Salve, regina. Salve, regina. prega per noi, madre di Dio, prega per noi, madre della Chiesa, prega per noi, madre di tutti i popoli, prega per noi, madre universale, prega per noi, madre di tutte le creature del cielo e della terra, prega per noi. Madre della Suprema Giustizia, prega per noi, madre dell'accoglienza, prega per noi, madre dei cuori, prega per noi, madre della famiglia, prega per noi, madre dei bambini, prega per noi, madre di luce, prega per noi, madre dei bambini mai nati, prega per noi, madre degli angeli, prega per noi, madre del Santissimo Sacramento dell'altare, prega per noi, madre dello Spirito Santo, prega per noi, prega per noi, madre dell'eucaristia, prega per noi, madre del corpo di Cristo, prega per noi, madre dei sacerdoti, prega per noi, madre delle vocazioni sacerdotali, prega per noi, madre dei consacrati, prega per noi, madre degli sposi, prega per noi. Prega per noi, madre dell'amore, prega per noi, Santa Maria Vergine, prega per noi, Santa Immacolata Concezione, prega per noi, Santa Maria Sposa del giusto Giuseppe, prega per noi, Santa Venerabile Creatura di Dio, prega per noi, Santa concepita senza peccato, prega per noi, Santa Maria voluta da Dio, prega per noi, Santa Maria mandata da Dio, prega per noi, Santa Madre degli Apostoli, prega per noi, Santa Madre dei Santi, prega per noi, Santa Madre delle Anime del Purgatorio, prega per noi, Santa Madre del Grebo Materno, prega per noi, Santa Madre delle Madri, prega per noi, Santa Madre della Chiesa Universale, prega per noi, Santi e sante, pregate per noi, San Michele Arcangelo, prega per noi, San Gabriele Arcangelo, prega per noi, San Raffaele Arcangelo, prega per noi, Andi e ssele science di Fondra delle Immacolata Concezione, prega per noi, Giuseppe Prego di Dio Marco Polaro, prega per noi, San Gesù e San Giuseppe Marco Polaro, prega per noi, San Giuseppe diyore Aaron 먼저 экономato di Dio Marco Polaro, pregoci tresne di Dio Marco Polaro, pregoci cuatro. Grazie a tutti. Il nostro animo, lo Spirito Santo di Dio e la passione di Cristo Gesù per meditare i santi misteri del Santo Rosario, per proclamare la salvezza della nostra anima e la redenzione del mondo per mezzo di Cristo nostro Signore, con l'intercessione della Santa e Beata Vergine Maria e San Giuseppe. Amén. Preghiamo insieme la preghiera che accompagna questa immagine benedetta. Madre, luce e i bambini malati, accogli nel tuo cuore materno, misse e glorioso, i figli delle donne che apportiscono. Consola un cuore pentito di mamma, dona la pace e l'amore di Dio. Per amore di Gesù, asciuga le lacrime di chi ha perso un figlio. Trasforma il dolore di chi vuole essere mamma in gioia materna. Prega per noi peccatori, manda di Cristo celeste e divino, creatura dal cuore immenso, regina della pace, regina dell'amore materno. Per amore del Santo Cuore di Gesù, intercede che Dio e Dio, che lo Spirito Santo di Dio possa illuminare il cuore di tutte le donne del mondo. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nel Cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo e così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e ne metti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. non ci dura in tentazione, ma di te la scena male. Amen. Padre Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta e il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e al Padre, al Figlio e al Figlio Santo, come era per principio o per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sono sotto la tua protezione. Ci cerchiamo il rifugio, santa la madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi non pensiamo nella Dattora. Madre di Giaccioro di Penacolo, o Vergine, con la nostra benedetta. San Dichera, Arcangelo, difendici nella lotta. Sino nostro aiuto contro la maga cagedaria e le insiglie del demonio. Che Dio eserciti il suo domino sui muri, sui piacere, ti preghiamo. Tu, che essere il principe della modizia celeste, con la forza divina, rinchiuti nell'inferno, salva la maglia. E siano gli spiriti di Magalini, che girano il mondo per portare le anime alla donazione. Amen. Per tutti i sacerdoti e per le vocazioni sacerdotate religiose. Amore Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Il Signore ci benedica con la Vergine Maria, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ti salutiamo, Vergine, colomba tutta pura, nessuna creatura è bella come te. prega per noi Maria, prega per i figli tuoi, madre che tutto puoi. Abbi di noi pietà, abbi di noi pietà. Grazie. Grazie.